Il dropshipping è estremamente difficile quando si parte. La verità è che la grande quantità di informazioni là fuori non aiuta perché una parte di queste sono fatte solo per fare tante view e poi venderti qualcosa. Un'altra parte invece sono fatte proprio per lasciare qua e là degli spazi, dei buchi vuoti che poi devi andare a riempire comprando qualche ulteriore corso informazione aggiuntiva. Il motivo e l'obiettivo per cui creo questo contenuto invece è per rivelarti tutto il modello step by step pratico che puoi prendere, replicare per avviare uno store dropshipping fino a fare le tue prime vendite. Prima di partire chi sono e perché dovresti ascoltare me rispetto che guardare qualcuno che su YouTube ti fa vedere invece delle supercar, degli screen milionari e degli orologi super costosi. Il motivo è semplice, in realtà puoi anche non ascoltarmi. Quello che ti dico è che comunque ho visto dal 2017 ad oggi quella che è la mia situazione iniziale dove ho fatto una sola vendita in due mesi di tempo fino ad arrivare ora ad avere tre store dropshipping costanti, profittevoli. Il primo di questi l'ho aperto dal 2019, ad oggi sono quasi quattro anni che è in tutta attività e in costante profitto, oltre a testare insieme al mio team più di 5-10 prodotti nuovi ogni singola settimana e oltre ad aver portato migliaia di studenti da zero a risultati e addirittura a lasciare quello che è il loro lavoro principale e dedicarsi totalmente al dropshipping. Quindi di nuovo ti dico tutto questo perché so esattamente sia provato sulla mia pelle sia aiutando gli altri a fare lo stesso, passare da non avere neanche la più pallida idea di cosa devi fare sul tuo store fino a creare un sito che può funzionare, vendere un prodotto efficace e riuscire a fare i primi risultati. Non voglio farti perdere altro tempo perché se è vero quello che ti ho detto inizio video di evitare di riempire questo contenuto di informazioni inutili, manteniamo la promessa, passiamo subito sul mio computer e cominciamo a lavorare al nostro store. Ovviamente il primo step è quello di creare un account su Shopify. Utilizzeremo questa piattaforma, ti lascio qua il link e anche in descrizione che ti permette di avere un euro al mese come piano di Shopify invece di 30 euro al mese che se ci pensi quando sono partito io quello era già un importo molto alto che io non potevo quasi spendere, 30 euro al mese oggi puoi sfruttarlo a un euro al mese. Quindi arriverai su questa piattaforma, qui sotto metti la tua mail, non è importante la mail che metti perché poi da un account solo puoi gestire più account. Quindi insomma è utile che puoi mettere una mail, magari quella principale con cui crei il tuo account. Poi una volta che fai start free trial arriverai a questa pagina qui e qui in realtà possiamo schippare tutto e arrivare direttamente all'interno del nostro shop. Ok e mentre Shopify ci prepara la nostra piattaforma è logico che dobbiamo iniziare a creare poi lo store e ci serve un prodotto. Ti faccio vedere due metodi, uno gratis e uno volendo a pagamento per trovare dei prodotti interessanti. Quella che ti consiglio è un'estensione di Chrome gratis che si chiama My Ad Finder. La base della ricerca di prodotto è quella di trovare qualcosa che già sta funzionando e My Ad Finder ci permette di raccogliere tutte le inserzioni su Facebook, quindi inserzioni che ti escono quando scrolli per il tuo account di Facebook. Infatti una volta che sei sulla piattaforma quello che puoi fare è andare a cliccare proprio l'estensione di My Ad Finder e quello che ti fa selezionare sono due flag, mostra solo annunci e scorrimento automatico. Questo infatti ti permette di filtrare tutto quello che non riguarda le sponsorizzate e lo scorrimento automatico ti raccoglie tutte le ads principali all'interno appunto di My Ad Finder. Quando hai finito infatti quello che puoi fare è andare a stoppare lo scorrimento, cliccare annunci raccolti e come vedi qui dentro ci porta fuori tutte quelle che sono le sponsorizzate di prodotti e-commerce o dropshipping. Oltre ad altre sponsorizzate però l'idea è che come puoi vedere questi due per esempio sono due prodotti e-commerce quindi questo è un divanetto per cani, quello qui di fianco è invece un accessorio, un gioiello appunto per donne. E la cosa principale già quando vedi due sponsorizzate del genere è che ti rendi conto da subito quello che è l'impatto del prodotto stesso. Se vedi sulla sinistra questo è un prodotto che ha soli 44 mi piace quindi poche interazioni, questo invece è un prodotto che ha 13.000 interazioni quindi sicuramente qualcosa che sta effettivamente funzionando. L'altro metodo invece a pagamento ma che comunque ti consiglio di approfondire perché ha anche una prova gratis è Minea. Minea ti permette invece di filtrare in modo più preciso le sponsorizzate che vogliamo appunto andare a trovare. Quindi su AdSpy Facebook Ads arrivi in questa piattaforma, io di solito metto la lingua inglese quindi cerchiamo sponsorizzati in un mercato diverso, piattaforma Shopify e mettiamo almeno 500 mi piace. Anche qui come puoi vedere troviamo un sacco di prodotti interessanti che comunque hanno un minimo di interazioni e quello che vogliamo fare poi di conseguenza è arrivare sulla sponsorizzata e arrivare anche sul sito appunto di questo competitor. L'ultimo step che puoi utilizzare sia con Minea sia con My AdFinder e con qualunque tool di ricerca prodotta è che quando arrivi su un sito quello che puoi utilizzare è Ppspy che è un'estensione che una volta attivata ti fa vedere le ultime vendite di quel sito se ne sta facendo. In questo modo completi il cerchio e sai esattamente se quello che stai per vendere sta facendo dei risultati. Come vedi questo è un prodotto che per esempio nell'ultime 7-8 ore sta facendo effettivamente diverse vendite di questo esatto accessorio in modo tale che sai qualcosa che possiamo prendere come base e andarlo a rivendere. L'ultima cosa che possiamo fare una volta arrivati sul sito è installare un'altra estensione che si chiama Tiv. Questa è un'estensione che quando poi sei su un sito come questo sotto vedi Find Supplier e quando lo clicchi ci cerca direttamente su Aliexpress quello che è il prodotto in modo tale che sappiamo se insomma si trova se possiamo venderlo noi stessi e soprattutto a quale prezzo. Ecco qui ci ha trovato alcuni prodotti che dovrebbero essere simili a quello di base che abbiamo trovato quindi andiamo su appunto il primo prodotto ovviamente sulle informazioni che ti consiglio sono quelle di selezionare un prodotto che abbia un costo medio basso soprattutto se parti da zero con uno store quindi il consiglio che ti do magari è di non vendere un prodotto che tu paghi 27 euro che dovresti vendere almeno a per due e mezzo per tre quindi che lo vai a vendere a 70 80 euro non è una mossa intelligente all'inizio ti consiglio di limitarti ad un prodotto che costa massimo 10 15 dollari e che tu puoi vendere tra i 30 e i 40. Perfetto ora ho trovato questo prodotto con questo store che lo sta anche vendendo molto molto interessante prodotto che conosco già sicuramente lo possiamo usare per l'esempio di questo video. Ora dobbiamo selezionare il nome e creare il nostro logo quindi avere un'identità insomma del nostro brand. Quello che ti consiglio di fare è intanto utilizzare onlycoms.com dove tramite intelligenza artificiale andiamo a spiegargli quello che stiamo vendendo e ci andrà a generare dei domini con la disponibilità del .com appunto disponibile. Quindi andiamo a dirgli cosa stiamo vendendo quindi un tappeto super assorbente e ci facciamo generare appunto dei domini. Ecco come vedi ci genera qualcosa di intanto veramente massivo e poi veramente interessante cioè nomi come sleepfreepro.com super corti molto diretti con delle keyword anche secondo me veramente top. Sleepfree pro quindi mi piace. Sleep pro matte anche ci sarebbe che non è male forse addirittura meglio. Super matte pro diciamo che per questo video scegliamo sleep pro matte. Poi dobbiamo selezionare e creare quello che è il nostro logo. Per la creazione del logo ti consiglio di andare su Canva e creare un foglio 1080x300 che ti crea questo foglio appunto in orizzontale essendo che noi andremo a creare testo più icona per il nostro branding. Quindi partiamo andiamo a mettere il nostro testo. Ok e adesso andiamo anche su icon finder. Io qui quello che cerco di fare è di trovare qualcosa che sia in linea a quello che sto vendendo. Probabilmente un'icona per esempio di acqua. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Potrebbe essere sensato proprio per stare sia sulla colorazione del prodotto. Quindi questo color bagno direi cioè i colori ottimi la palette di colori per il bagno. Quindi un azzurro grigio chiaro bianco sporco cose del genere insomma. E quindi guardiamo un po' di icone. Su icon finder appunto le filtriamo come icone gratis e ne scegliamo una che andremo a includere insieme al nostro logo. Ed ecco che abbiamo il nostro logo completo. Come puoi vedere qualcosa di semplice. Sono riuscito a trovare quest'icona che ho sostituito alla O e quindi ci sta diciamo perfettamente. E poi usiamo questo azzurrino secondo me veramente idea. Una volta arrivato qui in alto a destra condividi e andiamo a scaricare la nostra foto come png. E un'altra cosa che ti consiglio per ritagliare quello che è appunto il testo stesso. È andare volendo su un sito che si chiama I Love Image. Con diversi tool tra cui un tool per ritagliare la nostra foto. Andiamo ad importare il nostro logo e io quello che cerco sempre di fare come vedi è sistemarlo e tagliarlo in modo tale che poi non sia pieno di spazi bianchi sopra e sotto il nostro testo. Quindi lo ritagliamo così andiamo a salvarlo in definitiva in questo modo. Ora per creare la nostra descrizione dobbiamo anche importare quello che è il nostro prodotto. Per l'importazione e quindi la commissione ad un agente o ad un fornitore. Quello che ci serve fare è installare un'applicazione. Se usiamo Aliexpress nello specifico utilizzeremo l'app che si chiama Deezers. Se vogliamo qualcosa di un po' più rapido, un po' gestito meglio utilizzeremo CJ Dropshipping. Quindi vai su Shopify, su Applicazioni clicchi Aggiungi App e poi andiamo nell'App Store. Questo ripeto ci serve per far sì che il nostro prodotto sia già collegato ad un fornitore. In modo che quando abbiamo i nostri primi ordini il fornitore va a spedire, gestire tutta l'automazione e la spedizione al nostro cliente finale. Senza che noi dobbiamo fare manualmente ogni singola azione. L'applicazione è CJ Dropshipping, è questa qui. Tra l'altro ti lascio in descrizione anche i link per CJ in modo che puoi vedere tutto veramente in modo super diretto. Così puoi arrivare subito a tutti i link che ti sto mostrando. Dopo che installi l'applicazione ti farà collegare appunto quello che è il tuo account. Puoi registrarti, puoi loggarti, sei già un account. E lo step successivo deve essere quello di trovare il nostro prodotto. Come puoi vedere qui abbiamo trovato, ho trovato il prodotto a cui siamo interessati. Una volta che sei su questa pagina intanto puoi guardare anche i prezzi. Quindi se tu filtri per Italia il mercato dove vogliamo vendere e puoi guardare anche la spedizione. Spedizioni, qui c'è una spedizione fast, fast ordinary, che ha una tempistica di 6-11 giorni di consegna. Con un prezzo totale di 10,87€ per singolo prodotto che è secondo me molto interessante. Ora quello che possiamo fare, quindi qui sotto è list. E andiamo quindi a importare il prodotto. Quindi shipping information, segui quello che sto per fare. Qui andiamo a definire il mercato principale dove vogliamo vendere. Qui avremo la nostra spedizione che abbiamo appunto visto prima. Qui sotto abbiamo il tipo del prodotto, quindi mettiamo tappetino. E venditore, anche qui mettiamo il nome del nostro store che abbiamo detto essere Sleep Pro Max. Ok, e qui dentro adesso vado io a filtrare un attimino quelli che sono le varianti effettive che vogliamo importare. Come vedi possiamo selezionare o deselezionare le varianti. Io ti dico, ti consiglio sempre in base al prodotto che vendi di non complicare troppo per i tuoi clienti la scelta di quello che andranno appunto a acquistare. Quindi in questo caso io adesso sceglierò 2-3 colori per taglia, niente di troppo folle insomma come scelta, anche per facilitare la scelta dei nostri clienti. E poi come margine di vendita ti consiglio di fare minimo 1 per 2,5 dal costo del tuo prodotto. Quindi se noi paghiamo 10,87 per 2,5 fa circa 25 e quindi 24,99 secondo me è un prezzo interessante per questo prodotto. Ok, una volta selezionato facciamo List It Now e quindi facciamo sì che ci vada a portare le tre varianti singole che ho scelto per appunto il nostro store. Ora come puoi vedere siamo nella sezione prodotti appunto di Shopify e abbiamo importato il nostro prodotto con le varianti, con il prezzo che abbiamo definito. Come puoi vedere qui ci ha importato poi un sacco di foto che non ci importano, io la variante specifica che ho mantenuto è proprio questa. Le foto poi le andremo a cambiare, partiamo però da cima a fondo. Quindi prima cosa cambiamo il titolo. Ora per il titolo, per la descrizione io ti consiglio anche per velocizzare o di prendere spunto da qualcosa. Se hai seguito le informazioni che ti ho dato all'inizio avrai trovato sicuramente un competitor da cui poter prendere spunto. Quindi per esempio la traduzione qui se vendiamo nel mercato italiano può essere tappetino per bagno super assorbente. E poi abbiamo anche una descrizione potenzialmente da poter rielaborare. Allo stesso tempo prima abbiamo usato un tool di intelligenza artificiale, utilizziamone un altro, andiamo su ChatGPT perché è un tool che con alcune indicazioni che ora ti vado a dare può dare veramente degli ottimi spunti per il tuo prodotto. Quindi una volta che siamo qui dentro facciamo generare a ChatGPT veramente tutto quello che ci serve come copy del nostro prodotto. Io tendo sempre, cosa che ti consiglio, a dargli però un contesto. Per esempio un qualcosa che possiamo farci creare è un nome del prodotto innovativo per quello che stiamo vendendo. Ecco ovviamente poi noi qui abbiamo già un nome potenzialmente sia dello store sia del prodotto che è Sleep Pro Matte. Però come stai vedendo qui gli ho chiesto alcune idee innovative, uniche e geniali per il tappetino da bagno antiscivolo assorbente da abbinare al brand Sleep Pro Matte che già abbiamo. E come vedi qui ci ha dato alcuni nomi, quindi per esempio Safe Step Dry, un po' elaborato, Sleep Block Matte che però è molto simile a quello che già abbiamo. Questo te lo dico come indicazione anche se vuoi ulteriori spunti. Per ora teniamo il nostro nome, quindi Sleep Pro Matte e mettiamoci comunque tappetino assorbente. Così anche se qualcuno non ci conosce, all'inizio non ci conoscerà nessuno, sanno comunque ciò di cui si trova. Poi andiamo nella creazione della descrizione. Ora qui di fianco ti faccio vedere l'esatto schema di come deve essere creata la descrizione del nostro prodotto. Quindi un motto più descrizione iniziale, tre paragrafi centrali di descrizione effettiva e poi una chiusura di quelle che sono le garanzie, le specifiche del prodotto e la tempistica di spedizione. Tutto questo lo puoi far generare a ChatGPT dando sempre quello che è l'introduzione al prodotto che vendi, dandogli anche alcune feature, quindi super assorbente, antiscivolo, materiale di alta qualità e poi cercare di fartelo elaborare. Quindi qui quello che ti consiglio per la descrizione è quello di dare sempre abbastanza informazioni a ChatGPT proprio perché se non li dai nessuna feature di cui è composto il tuo prodotto è ovvio che si inventerà delle cose magari false. Invece se già tu li dai quelle che sono delle informazioni base riesce a svilupparti al meglio una descrizione altamente interessante. Come puoi vedere qui infatti mette un motto introduttivo, sicurezza e comfort in ogni passo, ottimo, descrizione breve iniziale e poi ecco le feature, quindi tecnologia antiscivolo, ok, assorbenza superiore, non so se è una parola giusta, forse assorbimento potrei sbagliarmi e poi design elegante, resistente, perfetto. Quindi adesso andiamo a copiare tutto questo all'interno della nostra descrizione, ok? E adesso la vado a sistemare. In questo momento come vedi abbiamo una descrizione che ti assicuro funzionare, cioè è una descrizione che ha tutte le informazioni che servono al cliente per convincersi all'acquisto o comunque per capire ciò che stiamo vendendo. Chiaramente ora c'è un'altra grossa componente che è quella di importare i contenuti che sono fondamentali. Tuttavia alla fine della nostra descrizione dobbiamo aggiungere le specifiche, queste ovviamente dovremmo verificarle noi ma è molto facile, che sono la dimensione, anche se in realtà la dimensione io ti consiglio di metterla di solito, però qui ce l'abbiamo nelle varianti. Vedi 40-60, 50-80 e 60-90, però solitamente puoi mettere dimensione, peso e materiale. Più quella che è anche una chiusura, io ho creato un mio script personale che veramente migliaia di persone, forse decine di migliaia da quanto ha girato questo script, utilizzano per andare a fare una chiusura completa di tutte le informazioni necessarie. Te lo lascio qui di fianco, puoi fare uno screen, puoi salvarlo e riportarlo su quello che è il tuo store. Dopodiché l'ultima cosa per la descrizione è la costruzione di contenuti o l'utilizzo di contenuti di alta qualità. Intanto li possiamo prendere anche da un eventuale competitor se già ha dei contenuti decenti. Per esempio questo è un contenuto secondo me molto interessante, anche se non è il colore esatto e soprattutto non ha la scritta bathroom. Quindi dovremmo cercare se magari c'è qualcosa online. Quello che puoi fare banalmente è cercare tasto destro su il nome insomma del tuo prodotto, immagini. E qui la cosa importantissima e una delle cose più importanti veramente del prodotto che vendi è la qualità e il tipo di foto che selezioni per quella che è la tua descrizione. Cosa voglio dire? Che usare delle foto troppo incasinate, sporche, editate, con tantissimi testi, fake, perché questo tappeto non è veramente lì a quanto sembra, non vanno bene. Tu dovresti invece usare delle foto come questa, foto di altissima qualità, ecco magari anche questa è fake, sembrava migliore da lì, però per capirci delle foto dove si percepisce che il cliente è lì davvero e che quel tappetino sia lì davvero. Come vedi questa qui è una foto molto pulita, di alta qualità, dove si vede veramente un'azione che il cliente in quel momento sta eseguendo. Adesso faccio questa ricerca, sistemo due o tre contenuti e poi ti faccio sapere che la descrizione non è finita qui, perché quello che dovremo fare è anche importare qui dentro dei contenuti. Adesso faccio io con calma la ricerca di tutte queste foto e ti faccio vedere esattamente il processo di importazione, così ti rendi conto di come devi trovare i contenuti del tuo store. Per le foto principali ti consiglio di mantenere almeno 3-5 foto senza esagerare, poi più varianti e colori hai, chiaramente più foto ti servono, per una struttura iniziale 3 o 5 contenuti. E poi la seconda cosa che dovrai fare sarà importare ulteriori foto anche all'interno della descrizione. Nella descrizione tuttavia io quello che, una cosa che mi piace andare ad includere sono le GIF, che sono contenuti molto molto più immediati, che comunicano al cliente da subito delle azioni che può eseguire con il prodotto stesso o comunque lo vede in movimento. Qui quando cerchi allo stesso modo il prodotto, filtra per strumenti, tipo GIF, in modo tale che troviamo proprio questi contenuti. Ti consiglio anche qui di scavare un po', però ecco questo per esempio è già un contenuto ottimo. Ok, qui non c'è il colore verde, però lo importiamo lo stesso. Ora voglio farti vedere come funziona la struttura dello store in modo tale che sei anche tu aggiornato. Quindi mettiamo un primo contenuto qui dentro. Io utilizzerei un bilanciamento abbastanza 50-50, quindi se dobbiamo usare 6 foto, 6 contenuti, nella descrizione useremo 3 GIF e 3 foto. Quindi vado a fare anche questo lavoro. Perfetto, anche quest'ultimo step della descrizione è completato. Adesso continuiamo a scorrere. Qui sotto dobbiamo modificare le varianti. Per farti capire, non è una cosa sensata. Innanzitutto mantenere uno stile molto diverso tra le titolo, style con l'S minuscola, testo con la maiuscola in inglese. Cioè mettiti nei panni del cliente se vede una cosa del genere percepisce poca professionalità e poca attenzione. Soprattutto se abbiamo un solo colore non ha senso dare la selezione. Quindi modifichiamo, cancelliamo la nostra variante e anche qui sotto clicchi modifica e andiamo a rinominare, lo chiamiamo dimensione. E anche qui ti dico, cerchiamo di formattarla in modo sensato, quindi tutte fatte nello stesso modo, con lo spazio e con il per piccolino. Andiamo a salvare. Ultimissima cosa che dovremo fare è modificare il prezzo. Ok, 24, 34 e 44,90, però devi cliccare modifica per mettere un prezzo di confronto, per fare la percezione che il prodotto che stiamo appunto vendendo abbia anche un prezzo più alto e quindi è in sconto. 24,90, prima era 39,90. Lo facciamo su tutti e andiamo a salvare. Perfetto, ora la nostra descrizione è veramente completa. Quindi quello che vogliamo fare adesso è lavorare sulla pagina home page, quindi sulla pagina che andrà ad accogliere i clienti in un secondo momento o qualcuno che comunque arriva sulla pagina prodotto fa un salto sulla home page. Andiamo su navigazione online e una volta che siamo qui sui temi, di base Shopify ti installa il tema Dawn, che è comunque interessante. Quindi andiamo su personalizza. Poi io ti consiglio sempre di mantenere e modificare il tuo store sulla versione mobile, quindi come puoi vedere su, insomma, device, iPhone, quello che è, perché la visione da desktop, te ne renderai conto quando inizierai a lanciare, viene vista da un 5% forse meno di persone contro il 95 passa che guardano da mobile. E adesso dobbiamo sistemare tutte quelle che sono le nostre sezioni. Nonostante il prodotto che stiamo vendendo è uno solo, è comunque importante creare un minimo di home page fatta come si deve, soprattutto cambiando testi e pulsando. Quindi partiamo dalla barra degli annunci, la vai a cliccare, ti apre il selettore appunto di testo e qui andiamo a mettere sempre un beneficio del prodotto. Se abbiamo uno sconto del 30%, possiamo mettere sconti fino al 30% su tutto il sito. Oppure un beneficio potrebbe essere spedizione gratuita per questa settimana, oppure nuovamente le ultime scorte rimanenti per gli sconti estivi. Insomma, cerchiamo di usare la barra degli annunci per dare un effettivo beneficio. Poi qui sotto abbiamo il nostro header che in realtà è relativo al menu, l'impostazione, quindi non c'è molto che dovremmo sistemare. Quando abbiamo fatto questo, sulle impostazioni del tema, come puoi vedere, abbiamo il nostro logo, quindi qui andiamo a importare il logo che abbiamo creato prima. Perfetto, una volta che l'abbiamo importato lo facciamo di dimensione massima, che comunque dovrebbe essere esatto, accettabile. E poi lavoriamo sull'impostazione, torniamo qua in alto su sezioni, l'impostazione di quello che c'è nella nostra home page. Quindi come puoi vedere sulla sinistra per ora abbiamo un'immagine banner che è esattamente questa, che adesso andiamo a sistemare. Abbiamo una collezione in evidenza, che è il nostro poi prodotto effettivamente in evidenza e possiamo aggiungere altre sezioni. Ora io ti consiglio qua intanto di cancellare la collezione in evidenza, quindi la selezioni e sotto fai rimuovi sezioni. E adesso aggiungiamo le seguenti sezioni. Quindi aggiungiamo un rich text, che è un'introduzione del nostro brand. Poi aggiungiamo un immagine contesto, dove daremo del valore aggiuntivo al cliente. Poi aggiungiamo una sezione prodotto in primo piano, dato che abbiamo un prodotto e non una collezione come quello che c'era prima. E poi andiamo a aggiungere un'ulteriore immagine contesto per dare ancora valore. Qui sotto abbiamo già l'iscrizione appunto della newsletter. E adesso andiamo a sistemare tutto quanto, quindi di nuovo impostazioni tema. Vogliamo andare a modificare i nostri colori. Perché? Perché il colore di base dei pulsanti e di tutto quello che sono i link vari del nostro tema dovranno essere e seguire la linea del colore base che abbiamo scelto, che è questo azzurro. Quindi allo stesso modo con cui abbiamo colorato appunto il nostro testo, andiamo a prenderci l'impostazione con il colore esatto, il codice di colore, e lo sostituiamo appunto sul nostro store. Quindi qui dentro abbiamo colori. La stessa cosa la possiamo fare anche sulle sezioni nuovamente. Andiamo sulla barra degli annunci. Qui dentro quindi andiamo a cambiare il selettore, mettiamo lo schema 5, che è facile perché poi andiamo a modificare i colori dello sfondo. Quindi mettiamo nuovamente il nostro azzurro. Come vedi è ben bilanciato il tutto. Ora una cosa che stai notando è che anche i pulsanti hanno comunque il testo per esempio in inglese. Questo è dovuto dal fatto che dobbiamo tornare sul nostro store, andare all'interno appunto delle impostazioni, e poi qui sotto vedi che hai la lingua. Quindi la lingua predefinita in questo momento è l'inglese. Io comunque all'inizio ti consiglio di vendere in italiano, in Italia. Quindi modifica predefinito e andiamo a cambiare la lingua mettendo italiano. Andiamo a salvare e in questo modo abbiamo aggiornato anche il nostro tema. Quindi torniamo di nuovo qui dentro. Adesso andiamo avanti con le modifiche. Un'altra cosa che dobbiamo modificare è per esempio la sezione del prodotto in primo piano. Quindi selezioniamo il prodotto che abbiamo appena effettivamente creato e come vedi ci prende tutte le ulteriori informazioni. Qui ci sono un po' di cose che io andrei a sistemare. Come vedi qui ci sono tutti titolo, testo, prezzo, selettore di variante, quantità, un sacco di cose che onestamente non ci servono. Quindi su condividi io lo andrei a togliere, che tanto è inutile oggettivamente. Il buy button, togliamo il checkout dinamico che sarebbe doppio pulsante. Quindi lasciamo un pulsante solo, aggiunge il carrello, va benissimo. Io qui dentro toglierei anche il selettore di quantità, onestamente. E anche questo direi che ci siamo. Abbiamo il nostro prezzo, abbiamo il titolo, anche il testo qui sopra che ci riporta il nome del brand lo andrei a togliere. Molto molto più semplice. E poi una cosa che vogliamo fare è riempire tutte quelle che sono le sezioni con dei testi e dei contenuti. Allo stesso modo per cui e come l'abbiamo fatto appunto prima, lo facciamo fare un po' a chat GPT e un po' anche a quello che è la ricerca effettiva. Quindi continueremo a cercare dei contenuti da riempire nel nostro store. Ok, quindi la prima cosa che sono andato a fare nuovamente è stata quella di trovare dei contenuti. Non ho trovato ulteriori contenuti troppo pazzeschi, diciamo, però ci siamo accontentati con del materiale. Ovviamente qui la cosa importante che dovrei fare tu è cercare in modo approfondito dei contenuti. Nel momento in cui non ci sono abbastanza contenuti, l'unica soluzione è quello di comprare il tuo prodotto e creare tu stesso le foto. Ma di nuovo, se hai fatto comunque una ricerca prodotto in modo abbastanza approfondito, troverai sempre dei prodotti che hanno abbastanza contenuti con cui creare il tuo store. Poi qui sono andato anche relativamente veloce per farti vedere l'esempio finale. Quindi dopo aver importato le foto andiamo su appunto chat GPT e qui ti faccio vedere di appunto fare una richiesta e generarci l'esatto materiale che ci serve per riempire la nostra home page. Dopo chat GPT ci ha dato tutto il test, tutti i testi di cui abbiamo bisogno e qui sono andato appunto a riempirli con un classico copia e incolla. Ho sistemato anche un po' quello che è il font, quindi ho messo questo Montserrat che è un font che a me piace un sacco e si adatta anche, devo dire, bene a quello che è la struttura generale appunto del sito. Prima di andare all'ultimo step e farti vedere il nostro store creato, completo e pronto a partire, andiamo a installare alcune applicazioni importanti. Quindi come abbiamo fatto prima, andiamo sulla sezione app e qui dentro facciamo app consigliate e poi andiamo sull'app store. Ti consiglio poche applicazioni perché onestamente sono quelle che ti bastano, cioè per essere veramente onesti non ti serve molto da avere appunto sul tuo store all'inizio quando devi ingranare e crearlo, ma anche nelle fasi avanzate ti assicuro che 4-5 applicazioni massimo ti bastano per fare grandi risultati. La prima di queste è l'applicazione Trust Badge, che è un'applicazione che ci serve proprio per impostare i badge di sicurezza per il cliente, quindi un qualcosa che infonde sempre tranquillità o comunque professionalità. Poi in base al prodotto che offri e a quello che stai vendendo, c'è un'applicazione che si chiama Kit e Sconti Illimitati, che praticamente ti permette di offrire dei bundle di acquisto multiplo. Compra un pezzo, due pezzi, cinque pezzi con uno sconto aggiuntivo. Un'altra cosa fondamentale è l'applicazione JudgeMe, applicazione gratis per importare manualmente, automaticamente le recensioni dei clienti. Quando vai su un sito tu stesso utilizzi le review dei clienti per capire se qualcosa sta funzionando o comunque se ti fidi di comprare oppure no, quindi anche questa è un'app fondamentale che ti serve sul tuo sito. E l'ultima di queste è Sticky Cart. Sticky Cart la puoi installare questa di SEO Ant. Praticamente è un'applicazione che ti permette e permette al cliente, dopo che scorra un po' la descrizione, di avere sotto un pulsante che li ricorda che deve fare un acquisto, scegliere una variante e fare azione. Adesso ti faccio comunque vedere l'installazione di tutte queste applicazioni e il setup in modo relativamente facile e veloce. Ok, adesso passiamo all'installazione delle applicazioni. Iniziamo da Trust Badge, app super semplice, qui vado a rinominare il checkout testo mettendolo in italiano, checkout sicuro con, e poi non c'è nient'altro da fare. Volendo puoi cambiare anche le icone e i badge stessi, però secondo me non è fondamentale. Quindi questa è un'app che ci permette di dare un po' più di sicurezza al cliente quando va a comprare. La seconda applicazione invece è JudgeMe, delle recensioni. Anche qui, quindi molto facile, vado a cambiare la lingua mettendo italiano e poi cambio, metto i colori alle stelline e al widget principale, quindi con un giallo oro per le stelline e un azzurro che è il colore base del mio store. Di solito consiglio di mettere almeno 20 recensioni come minimo assoluto e vale poi la regola più recensioni metti meglio. Un'altra applicazione molto forte invece è Sticky Add to Cart. Questa applicazione ci permette, come ti dicevo, di mettere sotto un badge o comunque un pop-up, aggiunge al carrello in modo tale che il cliente scorre e riesce appunto a sapere esattamente cosa sta vedendo e poter completare l'azione. Qui semplicemente quello che sono andato a fare è semplificare un po' quello che è appunto il pop-up, metterlo del colore appunto del nostro brand in modo che anche questo è lineare e brandizzato con ciò che stiamo vendendo. Come ultima applicazione impostiamo invece Unlimited Bundle and Discount di Revy, qui ci fa fare un Initial Setup di cui dobbiamo cambiare solo praticamente la lingua e una volta che siamo dentro abbiamo due opzioni. Ovviamente abbiamo uno con un prodotto solo, quindi importiamo il bundle per quantità, anche qui già preimpostato due pezzi 10%, tre pezzi 15%, quindi molto giusto quello che ci basta e comunque un qualcosa di interessante. E poi vado nelle impostazioni a modificare un paio di cosine. Sicuramente il layout lo metto centrale, l'allineamento e poi una seconda cosa che vado a fare è andare a cambiare i testi, sistemarli un attimo per quelle che sono i testi stessi. Quindi invece di lasciare aggiungi X prodotti, io metto per esempio ne prendo X, poi cambio ricevi, sconto, off, metto sconto, semplicemente la percentuale. Insomma un paio di modifiche di questo tipo. Poi ti magari consiglio di riguardare con più calma, magari addirittura rallentando queste ultime parti, così vedi gli esatti click che vado a fare e in quale condizione. Però questo appunto ti può servire per vedere velocemente una struttura di applicazioni. Per poi adesso andiamo, insomma vado anche a mostrarti lo store completo. Arrivato a questo punto il nostro store è completo. Il senso di questo tutorial è di arrivare a portarti ad una fase in cui hai uno store migliore del 99% dei dropshipper e se hai seguito le mie indicazioni avrai un frontend, quindi quello che l'utente vede perfetto, pronto a convertire. Chiaramente ci sono delle altre informazioni che dovresti vedere, ma a maggior ragione ci sono delle altre cose che adesso devi fare. Per esempio lanciarlo lato advertising. Una cosa infatti fondamentale che ti dico è che bisogna vedere un altro grosso step che è quello di ok ora come lancio il mio store, come faccio a portare delle vendite? Questo te lo posso portare in un ulteriore contenuto, fammi sapere se vuoi vederlo. Prima metti il tuo focus sulla creazione di uno store, trovi un prodotto e arrivi a questa fase. Se poi vuoi vedere anche qualcosa lato advertising lasciami un commento sotto questo video e ti andrò a portare il continuo dove prendiamo l'esatto store che abbiamo appena costruito e cerchiamo di farlo funzionare. Io per il momento ti ringrazio della visione di questo contenuto, invito a lasciarmi un bel mi piace, iscriviti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.